Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus l'oroscopo di giovedì 9 novembre Ariete, non è il momento giusto per fare azzardi in campo economico Mercurio è ancora in posizione complicata e tutto deve essere trattato con massima prudenza Toro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali Avete bisogno di tranquillità visto che ultimamente sono molto frequenti i contrasti Gemelli, con Mercurio ancora in Scorpione dovete fare molta attenzione alle questioni finanziarie e professionali ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali Cancro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso Attenti solo alla forma fisica, siete un po' stanchi Leone, la pressione di Marte si farà sentire parecchio In amore tira aria di crisi, ma Venere in bilancia rende positivo ogni cambiamento Vergine, si preannuncia una giornata intensa sia per l'amore che per i rapporti familiari All'improvviso riscoprirete il piacere di trascorrere più tempo in famiglia Bilancia Venere nel vostro segno porta una ventata di romanticismo e passione Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare nettamente Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici in famiglia e sul lavoro Mercurio vi vuole disponibili a fare qualche piccolo investimento Sagittario, Venere in bilancia può rendere più vivi i rapporti sentimentali Aggiungendo un pizzico di Eros Sul lavoro ci sono difficoltà da superare Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato In serata però avrete bisogno di rallentare il ritmo Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro La luna che passa in bilancia però può rendervi la vita molto più facile Pesci, con la luna opposta in mattinata non riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata Sarete alle prese con tanti piccoli imprevisti che vi faranno innervosire E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azzus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook Alla pagina Oroscopo di Azzus